Dio mio, sono passati sei anni, non ci posso credere! Ti senti di dire a chi si è tenuto per sei anni questo biglietto sperando in una mega festa per utilizzarlo? Vabbè, uno che se credo al concetto di fede, alla parola fede anche grazie a voi, perché la fede vuol dire fiducia. Inizio da M2023 vuol dire che non ti riposi più, queste sono le tue vacanze. No, beh, io ho voluto chiamare questo tour con quest'anno perché per me era l'anno della rinascita, non è un tour di un disco. Tuoi brani più famosi, vent'anni di carriera? Sì, sì, secondo me le scalette si fanno così, cioè io quando vado a vedere un concerto io voglio vedere, voglio ascoltare la storia che quell'artista ha scritto insieme a me. Quindi io credo che non sia surreale che io venga da Latina, penso che senza la provincia non avrei scritto tante delle cose che ho avuto la possibilità di maturare soltanto in una realtà così piccola e spesso anche limitata. Tiziano Ferro! E Raffaella fa la casa mia E Raffaella fa la casa mia